Buongiorno a tutti, mi chiamo Marina Ceravolo e sono il direttore sviluppo ricerche scenari e media di Sipra. Sono qui in questo bellissimo evento per raccontare Carosello Reloaded, che diciamo del mito di Carosello conserva una parte del nome e ha l'obiettivo di creare un evento pubblicitario che ospiti dei filmati in grado di coinvolgere le persone raccontando le storie dei brand. Quindi è uno spazio per storytelling, è un brand per storytelling. Devo dire che a parte questo è un formato completamente nuovo e multipiattaforma, quindi va non solo in televisione, va sul web e si può fruire su PC, su tablet e su smartphone e sull'UTT, va al cinema, va alla radio, quindi utilizza tutte le piattaforme distributive, dei contenuti distributivi di Rai e Rai pubblicità, così tra qualche giorno ufficialmente si chiamerà Sipra e quindi facciamo anche un battesimo di un nuovo renaming della nostra società. Ha voluto confezionare questo formato, questo evento che è trattato al pari del vecchio Carosello proprio come un evento editoriale, tant'è che è uno spazio che non fa zeppia, ad esempio in cui le persone sono predisposte a vedere lì in quel momento delle video pubblicitari capaci proprio di regalare delle storie alle persone. Devo dire che le aziende ci stanno seguendo bene, che stanno utilizzando questo spazio per filmati originali ma anche per creatività che nascono dalla rete e devo dire che oggi è possibile per noi fare questo progetto così importante che intendiamo assolutamente continuare a portare avanti per molto tempo proprio perché grazie alla rete si è riusciti a trovare delle creatività che sono state realizzate con tempi molto più lunghi rispetto ai 15 o 30 secondi classici della pubblicità.